Buonasera a tutti, grazie di essere venuti così numerosi nonostante le intemperie della giornata e la neve di questa mattina, insomma anche provata a nevicare. Questo evento è stato organizzato da UCID e dalla Fondazione Girolomoni, di cui sono presidente e siamo insomma felici di ospitare questo evento e la presentazione del libro di Lucia Tancredi su Il De Garda. Il De Garda è una magnifica badessa di Bingen, ha educato le sue monache attraverso la bellezza della musica e della natura, sono rimasta colpita dal fatto che amasse i colori, la cura del corpo e tutto questo per lei era amare Dio e non lo faceva attraverso penitenze carnali o mortificazione o tuniche nere, c'era proprio una celebrazione della bellezza. Usa molto spesso il termine viriditas, verde vigore vitale, pienezza di vita, verde forza. Oggi mi concedo di usare un termine un po' meno scientifico, più dell'anima, anche nel fare la pasta abbiamo cercato di mantenere la viriditas e quindi la forza e la vitalità del grano, nonostante usiamo le più moderne tecnologie. Mi sono infatti spesso chiesta, leggendo il libro, cosa avrebbe detto Il De Garda passando nel pastificio mentre usciva la pasta o vedendo il monastero che è sede della fondazione dove facciamo anche accoglienza e ho ritrovato sia in me stessa che in questa esperienza molti principi di Il De Garda. Questa giornata è nata, è stata cucita per idea di Gabriele Darpetti che non ha mai essere citato ma è stata sua l'idea di portare Il De Garda qui a Montebello perché ha visto un'assonanza e ha intrecciato tante altre donne che poi prenderanno parte al convegno come Maria Cristina che ci farà entrare con tutti i sensi nell'atmosfera di Il De Garda, Anna Manca, vicepresidente di Conf Cooperative, Sonia Sdrubolini, formatrice di Policoro e grazie a Francescato, ambientalista e scrittrice che frequenta Montebello da tanti anni. Stamattina c'è stata la formazione di Policoro qui al monastero e abbiamo parlato di commercio eco con Alessandro Franceschini di Altomercato e Miottoli di Sciadilli e abbiamo parlato di responsabilità, della possibilità di scegliere oppure di consumare. Ieri sera a Pesaro c'è stato un incontro, un convegno organizzato da Maria Rosa Conti al Femminile per la presentazione del libro Spigolatrici d'Ambiente in cui si è parlato sempre di conversione ecologica e della nostra responsabilità rispetto ai cambiamenti climatici e a tutto ciò che ci sta succedendo e hanno parlato 5 donne con esperienze diverse in diversi ambiti dalla politica all'architettura, al marketing, alla ricerca. Alla fine sia ieri che oggi ci siamo detti che nella situazione complessa in cui ci troviamo tutti i passi fatti verso la sostenibilità rischiano di cadere e rischiamo di farne tanti altri indietro. La speranza sta nelle nostre scelte di vita, a volte non semplici. Prendersi la responsabilità di aver cura di sé ma anche del pianeta impone tante scelte e talvolta ci fa sentire soli nel portarle avanti. E vorrei chiudo leggendo un pezzo di un amico che il De Garda incontrò nel suo percorso che è Bernardo di Clairvaux, grazie, perché me la sono fatta amica questa frase e spero la volevo condividere con tutti voi. Chi arrivava a lui aveva abbandonato le strade battute e si era rischiato dentro ristretti percorsi dell'animo, lì dove si celebravano fasti tutti interiori invisibili. Così era pure per chi voleva giungere nell'abbazia dei suoi monaci bianchi, le quali, mi dicevano, erano alla deriva delle strade, in perfetta solitudine e per raggiungerle occorreva attraversare pantani sotto la pioggia d'autunno e franare sui fianchi lisci delle colline nella calura dell'estate. Anche questo per Bernardo era preghiera, sapere essere soli senza il cammino segnato. Grazie. 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 voce il colpio della donna a capo e vento nel suo orgoglio verso me si è rialzata ti sei finata che cosa hai perdonato la sua il tuo creatore in te che spira il tuo creatore in te che spira con il dono della carne per il tuo segno ai suoi mangi di creare nella sua mamma e nelle idee di forma che amita no i cieli le tue nuove il tuo signore la mente e il peggio buonasera a tutti come diceva prima maria io ho fatto tardi perché c'era il vento perché non c'era l'indicazione della strada ma anche perché la strada era così bella e ad ogni tornante non facevamo altro che ammirare questo straordinario paesaggio sono felice perché siamo in tanti e siamo per il degarda e siamo per un libro che è uscito nel 2009 quando il degarda era una sconosciuta non era ancora una santa e soprattutto in italia di lei si parlava molto poco uno dei motivi per cui avevo accettato questo incarico da parte dell'editore era proprio perché di lei non si sapeva nulla adesso invece di lei si dice molto per cui quello che voglio raccontarvi è forse una maniera per cercare di capire chi è il degarda oggi e quello che per noi può essere il degarda in questo momento vorrei però andare indietro nel 1989 poco prima di morire il grande psicanalista elvio facchinelli dava alle stampe un suo saggio molto particolare la mente è statica da irriverente quale era sempre stato facchinelli si era addentrato davvero in regioni pericolose minacciose soprattutto particolarmente invischianti per la psicanalisi l'idea di partenza era quella che lui aveva espresso già nelle opere precedenti per la dire l'uomo della cultura classica è un uomo chiuso chiuso da un limite da una forma un uomo bardato corazzato nelle sue divise è costretto sempre a vigilare ad aspettarsi una disgrazia fa chinelli dice che insomma l'uomo è un po come la principessa nel castello dalle sette mura che deve essere liberato e anche la coscienza sembra far parte di questo sistema di fortificazione a cui lui dice anche la psicanalisi ha contribuito non a caso freud nello studio della sua casa in bergasse in questa via di fronte alla finestra aveva un muro voleva proprio un muro voleva essere delimitato da un muro di cemento armato in questo saggio fa chinelli si spinge oltre perché affronta l'argomento che costituisce il tabù di tutta la nostra cultura occidentale vale a dire l'estasi la mente statica o come si diceva nel medioevo l'apex mentis l'apice della mente bernardo di chiaravalle che nominavamo prima lui esortava a non temere i prodigi che l'anima è capace di vedere nell'estasi quando l'uomo si fa vaso di dio perché il compito della mente statica è proprio questo eliminare la scorza la cera che è intorno al miele dice sempre bernardo affinché l'uomo possa affiorare come una mandorla dolce in quella che è la sua forma interiore che lo rende simile a dio l'uomo classico da una parte e l'uomo moderno invece si è voluto privare di questa percezione privilegiata in cui non ci si difende ma al contrario si accetta si accoglie si vive quella che è una disposizione dell'anima ed insieme anche una specie di febbre perché nell'estasi il tempo non c'è più il tempo non è una linea non è un punto d'inizio e un punto finale anzi il tempo diventa qualcosa di vibrante qualcosa di indistinto in cui le cose sembrano esserci non esserci o essere da un'altra parte l'estasi è il momento in cui il vuoto si capovolge in pieno si ascoltano i rumori dal punto di vista del silenzio si vedono le stelle dal punto di vista dello spazio notturno l'estasi è il momento in cui l'attimo diventa la massima accelerazione della totale immobilità sono concetti difficili da capire ma il punto è che non bisogna capirli l'essa sia un po come un grande mare dove non c'è più il dualismo e non c'è più neanche la differenza fra il sacro e il profano il puro e l'impuro c'è stato un momento in cui la mente statica ha cominciato a destare sospetto ha cominciato a dettare paura a sembrare quasi una minaccia perché la mente statica sembrava qualcosa che potesse destabilizzare la ragione l'integrità dell'io stesso facendolo ritornare ad un indistinto originario insomma l'estasi è stata vista come una pericolosa devianza soprattutto da parte dell'uomo che pretende di avere con dio un rapporto diretto un rapporto privilegiato per fachinelli l'estasi è altro lui dice e sono perfettamente d'accordo che se c'è davvero una cosa che fa paura nell'estasi non è solamente il fatto che la ragione abdica non è solo la libertà ma è soprattutto la gioia ci hanno sempre fatto credere che il mistico sia comunque qualcuno che in qualche modo soffra anzi qualcuno che provi una sorta di voluptas dolendi nel mostrare le sue stimmate le carni macerate le passioni impresse come talismani carnali c'è sempre stato taciuto infatti invece che il momento dell'estasi anche un momento di grande gioia la gioia anzi è la cifra dell'esperienza statica beh non serve scomodare gli storici della microstoria quando ci parlano di quello che sono state le società antiche le società antiche hanno istituzionalizzato il potere attraverso l'istituzionalizzazione della violenza la traumatizzazione dell'infanzia la damnazio memorie la repressione del femminile ma diciamo la verità il mistico nell'estasi prova gioia pura gioia e attenzione perché non è solo la gioia di cui parla maester eckhart il grande mistico renano medievale quando cita forzando un po il testo evangelico su rexit autem saulus de terra apertisque oculis nil videbat paolo si alzò da terra paolo saulo e con gli occhi aperti vide il nulla e questo nulla era dio attenzione non è questa la gioia saulo paolo sulla via di damasco viene atterrato dal suo cavallo dalla luce di dio che lo conduce in una sorta di deserto silenzioso dove lui deve patire la distanza da dio questo un po è il dio unico il dio absolutus quello che spiego ai miei alunni quando facciamo l'ablativo assoluto cioè sciolto disincarnato il dio nel suo trono dall'abastro che mette sempre alla prova la sua creatura il popolo eletto nei mancamenti dell'esodo non è questa la gioia c'è un'altra gioia e la gioia nell'estasi è tipica soprattutto della mistica femminile è la gioia di santa teresa d'avila come la vediamo nella scultura di bernini sotto le pieghe croccanti dell'abito il suo corpo che pare lievitare che pare espandersi per accogliere questa percezione del divino nella molteplicità del reale la gioia di cui parla la mistica femminile non è il roveto ardente che si consuma fino alla cenere fino all'abolizione del reale non è neanche la gioia che prova l'artista nella sua ispirazione no la gioia delle mistiche e l'aveva capita fachinelli è proprio questa è una sorta di irradiazione non è il momento in cui ci si distacca dal mondo ma al contrario è il momento in cui si entra nella carne nella polpa del mondo si entra dentro le cose del mondo per benedirle la gioia nella mistica femminile finisce per diventare quasi una postura un modo dell'essere una mediazione verso l'altro è quello che dice il de garda facendo questo gioco homo omnis l'uomo diventa il tutto creatore creato e creatura diventano tutte la stessa cosa ha ragione e fachinelli quando dice per impossibilità di credere a ciò che crede il mistico si è finito spesso per non credere all'esistenza del mistico ed è quello che è successo ad il de garda di bingen per secoli e secoli il de garda è stata dimenticata o almeno tenuta da parte per quale motivo io penso che l'elemento perturbante l'elemento destabilizzante sia stata proprio la sua gioia attenzione la gioia di il de garda non è un sentimento facile non è un sentimento ingenuo confidente non è un sentimento naif la gioia di il de garda è una conquista un compimento diciamo che è la suprema vocazione creaturale per lei la gioia è raccogliere al mattino le gocce di rugiada sulle foglie di ontano per i suoi medicamenti è la viriditas cioè è verdeggiare guardare la natura verdeggiare sempre in grazia di dio la gioia per lei è crescere le sue figlie le sue monache non tagliando loro i capelli non facendole vergognare della loro bellezza perché in fine conti verginità e viriditas hanno lo stesso tipo di radice è il verde che si rinnova continuamente facendole studiare facendole cantare facendole miniare facendole danzare facendole intendere come la loro verginità come la viriditas è innanzitutto la fedeltà a se stesse prima che la fedeltà a un dio è affinare come diceva lei il suo timpano alla musica degli astri e al canto per ricordare che un tempo gli uomini parlavano la stessa lingua degli angeli la gioia di il de garda è quella di benedire il mondo nominandolo nella convinzione secondo me oggi più che mai attuale che la donna non può e non deve essere le unuca della parola non solo la donna non deve essere tacita è un termine che usa ovidio e che significa due cose nascosta e silenziosa la cifra del femminile e niente di nuovo in questo sia in oriente che in occidente questo essere tacito delle donne ma il de garda non ha mai amato questa sorta di reclusione così come il de garda non ha mai amato tutto quello che è il sacrificio la storia sacrificale non ha mai amato i cilici le assurde macerazioni della carne che secondo lei erano solamente una delle tante lussurie proprio dell'egoismo il de garda è un nome particolare tra l'altro significa colei che vigila nella battaglia e quello che ha fatto sempre il de garda è stato proprio vigilare e operare per far sì che nelle donne e negli uomini tutti non mancasse mai il dono di una parola capace di conoscere e di sentire nello stesso tempo di rendere il mondo abitabile condivisibile di nominare la bellezza e di legittimare la bellezza è per questo che oggi noi abbiamo bisogno più che mai delle parole di il de garda perché le parole di il de garda sono quelle che mettono al mondo il mondo attraverso la bellezza la condivisione e la sostenibilità è una cosa che possiamo dire le parole di il de garda però non si prestano ad una facile sintesi a sommarie divulgazioni il de garda ha bisogno anche di essere contestualizzata di essere di essere studiata per non perdersi tra l'altro nelle foreste di simboli del suo stranissimo latino nelle sue visioni che sono complessissime perché il de garda vede tutto il mondo contenuto in un uovo in un utero di donna al contrario invece i suoi medicamenti a volte sono molto 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 terrestri medicamenti in cui davvero lei intende le subtilità tes di tutta la natura e di tutte le creature della natura il de garda richiede proprio l'ufficio di tutti i nostri sensi l'occhio l'orecchio il tatto l'olfatto il gusto tutti i sensi anche i più semplici e di più elementari partiamo dalla musica grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. 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 abbiamo avuto. a tutti. a tutti. a tutti. nei confronti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. la natura. a tutti. a tutti. a tutti. 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 . tutti. 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 . tutti. . . tutti. . 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